ROOOOOO! 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 Ma mamma mia, c'è una televisione a tu piña? Ah no! Ciao TV! Che stai guardando? Eh, sopra una televisione a Ciao TV! Ah no, ma tu Ciao TV! Sono venuto a dirti che ogni martedì la devi guardare perché alle 22.30 ci sono il tuo La Risata che presentano il nuovo lavoro discografico a fine Romuna! Ah no, però io sono venuto per un piacere Dici a noi! Ah no, mi sta passare 5.000 euro! E che fanno? Ha già scavato con il bagno e non è morto! Ah, c'è morto il ramme! Ah no, ma con questa guerra che sta in giro tu pensi a queste cose? Ah no, pensi a me a morire perché le guerre sai cosa fanno? Dici! Violentano le donne però a te non danno a tu cosa! Ma no, la guerra è guerra per tutti quanti! Ogni martedì 22.30 Ciao TV! Ciao! Ciao!